bella liraga crdesign power robie ultimamente sto vedendo persone che hanno copiato le mie pedane ci scrivono addirittura sopra cr diffidate delle imitazioni perché quella pedana che questo tizio da dove cazzo è polonia dove cazzo sei è un personaggio che tempo fa mi ha contattato chiedendomi i file di disegno per fare lui stampare lui vendere lui no no le faccio io le progetto io le vendo io è roba mia non la do in giro primo secondo io per arrivare i risultati che avete visto ne ho buttate via una trentina di pedane 30 40 tutte a spese mie perché le testavo quella non va bene perché fa così quell'altra non va bene perché picchia il parafango dietro e a lungo andare si rompe a lungo andare ti rompe il parafango dietro ha bisogno un incavo perché deve accogliere il movimento del parafango posteriore questo ha preso quattro mie foto ha realizzato una cosa che per me era uno dei primi prototipi primi prototipi che erano sono stati tutti scartati perché non erano funzionanti prima o poi si rompevano davano problemi picchiavano nel parafango così lunga come pedana che si appoggia il piede crack si rompe cioè perché maggiore è la lunghezza la pedana più forte è la leva che spinge sulla pedana di conseguenza va da sé che non è fattibile non va bene la migliore che ho mai progettato è la pedana facile che è quella più venduta ne avrò vendute ne ho vendute tantissime tantissime e funzionano tutte bene questo tizio mi sta copiando sta copiando il mio nome il mio design addirittura ci mette anche dentro il mio nome ce lo scrivere cr come se sono io che faccio quelle cose lì non sono io ragazzi state attenti io vi do un consiglio non la comprate non la comprate perché si rompe poi non la volete comprare da me non me ne frega un cazzo ma non comprate quella roba perché quella roba si rompe a guardarla io parlo per esperienza perché io l'esperienza ce l'ho di pedane ne ho fatte una marea una marea prima di arrivare alla fase definitiva che secondo me è la facile e robusta indistruttibile comoda non rompe le palle e tante 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 altre cose che non sto qua a dirvi questo personaggio è fasullo vi sta vendendo vi mette il funo negli occhi poi cazzi vostri fate quello che volete il mio consiglio è di non acquistarla perché anzi no compratela compratela così quando vi si rompe venite a comprarle da me power robie no bla 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 i fatti parlano bella lì